Ciao a tutti gli amici di Social Artist, vi ringraziamo per averci invitato e dato la possibilità di promuovere il nostro brano che è appena uscito. Come sapete io sono Gian Pietro Melis e faccio parte di un duo composto da me e da Gioia Furia, il nostro duo si chiama Furia in Melis. Non è un duo musicale, è un duo artistico, infatti in questo momento non vedete Gioia perché si sta occupando delle riprese, perché Gioia è la regista di tutti i nostri videoclip ed è quella che si occupa dell'immagine, della fotografia e dei montaggi. Colgo l'occasione per portarvi i suoi saluti. Io invece mi occupo di quello che è la stesura dei brani e la creazione delle nostre canzoni. E a proposito di canzoni siamo qui per presentarvi il nostro brano natalizio che si chiama Un Natale per ricominciare. È un brano natalizio ma è un brano un po' diverso dal solito, è un brano che vuole aiutarci a riflettere sulle condizioni in cui versa il nostro pianeta. E voi direte perché parlare di inquinamento proprio a Natale e in una canzone di Natale? Ma io ho pensato di farlo perché come tutti sappiamo il Natale è la ricorrenza in cui ricordiamo la nascita di Gesù che è il figlio di Dio, che è stato il regalo più grande, più bello che Dio ci ha fatto, proprio come Dio ci ha regalato il nostro pianeta. E allora ho pensato che sarebbe da ipocriti festeggiare senza ricordarsi che stiamo vivendo in un pianeta che in questo momento sta soffrendo. Il brano è nato quest'estate, un po' di getto, mentre alla tv guardavamo i numerosi incendi susseguirsi in Sardegna, in Sicilia, in Australia. E allora noi cosa possiamo fare per fermare tutto quello che sta accadendo? Ma anzitutto possiamo parlarne, parlarne in famiglia, parlarne magari durante le festività e poi fare qualche piccolo gesto, magari un fiocchettino in meno sul pacchetto regalo o un po' più di attenzione nei confronti della raccolta differenziata. Ad ogni modo discutere e discutere di quello che stiamo vivendo in questo momento può solo aiutare affinché non cada nel dimenticatoio. E così speriamo che i grandi della terra possano presto mettersi d'accordo per trovare delle soluzioni innovative ed efficienti. Se vi va di ascoltare il nostro brano è molto semplice, lo trovate su tutti i nostri canali, su Youtube, sulla nostra pagina Facebook e su Instagram. La canzone si chiama Un Natale per Ricominciare e basta cercare Furia e Melis, ci trovate facilmente. Quindi vogliamo cogliere l'occasione per augurarvi un felice Natale all'insegna della speranza e della rinascita. E che sia per tutti voi Un Natale per Ricominciare.